Riguardo alla Cina, chiaramente l'attore in questo momento su cui tutti i riflettori sono puntati è la Cina. Ieri pomeriggio ho ricevuto un messaggio, due anni e mezzo fa ero ad Hong Kong a seguire la rivolta degli ombrelli, ho ricevuto un messaggio da una persona con cui ero in contatto, era un attivista, e mi diceva come state, vi pensiamo, Hong Kong è persa, adesso sacrificherete Taiwan, provate almeno a salvare gli ucraini. Questo era un messaggio di una persona, non di uno studioso, cioè una persona che era in piazza e che ha visto questo. Lo dico per dire che è chiaro che la guerra, come tutte quante le guerre, finirà, si troverà un compromesso, ci sarà un trattato di pace ed è chiaro che al tavolo delle trattative di pace siederanno attori che non sono tutti democratici, sono attori a cui noi dovremo fare delle altre concessioni affinché si arrivi a ragionare in termini di cessare il fuoco, di pace e di creare un altro ordine. Questo soltanto per dire che è ovvio che la guerra è terribile, adesso vedremo delle cose feroci. Stamattina diciamo Leopoli, ora prima di arrivare a sedersi al tavolo della pace, come è sempre successo, ci saranno massacri che vedremo moltiplicarsi ogni giorno, perché si cercherà di arrivare nella maniera più forte possibile a questo. Ed è per questo che voglio dire che come la Russia stringe d'assedio sempre di più l'Ucraina, anche da parte degli ucraini, quando da noi in Italia si dice che il presidente Zelensky fanno appelli bellicosi, anche loro sono consapevoli che essendo stati aggrediti, come si siederanno al tavolo della pace, se avranno tenuto all'attacco o non avranno tenuto, determinerà quanto dovranno cedere o non dovendo cedere, essendo stati attaccati per primi. E in questo momento l'Ucraina sta tenendo meglio, anche dal punto di vista del morale. È chiaro che tutti noi vorremmo che non si arrivasse a questo, ma bisogna anche guardare quelle che sono le condizioni sul terreno. E noi vedremo dei crimini degli ucraini, vedremo il nazionalismo che oggi è a meno del 2%, il famoso battaglione Azov, non ha partiti politici, hanno preso meno del 2% e non siete in Parlamento. Ma io le ho già viste le bandiere, sono pronte a scommettere che dopo la guerra saranno cresciuti. Quindi dobbiamo essere consapevoli, un po' meno naiffe in questo, che dovremmo trattare con la Cina, dovremmo trattare di chiudere un occhio su Taiwan per cercare di calmare questa situazione. È quello che si fa con la politica, è la diplomazia, si tratta. Ecco, noi abbiamo sentito tante parole.